Io sono stato, sono un fervente ammiratore del Pontefice, ma questa condizione mi dà una particolare tristezza. Francamente, in questo degrado generale che stiamo vivendo, il Papa costituiva un'eccezione. E anche il ricordo che lei adesso ha fatto quel viaggio in aereo, chi sono io per giudicare, era proprio un modo di sottrarsi anche alla temperie del tempo, di alzarsi. Questa caduta mi sembrava francamente sconcertante, appunto mi dà solo una grande tristezza. Non saprei cosa raggiungere. Ecco, questo è l'articolo di poco tempo fa in cui, rimandiamo un secondo, altre parole. Il Papa disse, chi sono io per giudicare un gay, e questa fu appunto una delle sue, a tutto campo, sul volo. Da Rio, stava ritornando da una missione a Rio in Italia. E oggi queste parole pronunciate davanti a 110, 120 alti prelati della conferenza episcopale italiana. Purtroppo apre un altro spaccato su questo mondo ormai della politica che sembra avere perso la grammatica. Davvero, perso la grammatica. Cioè che non solo che è un pontefice, ma che è questo pontefice che ha fatto della cifra dell'accoglienza, dell'inclusione, dell'apertura il carattere di una chiesa che cammina nel popolo e verso il popolo. La chiesa in apertura. Ma come stanno insieme questa apertura verso il mondo? E anche, se posso dire, questa terribile volgarità, che è una chiusura persino sul terreno del linguaggio. E il linguaggio esprime tante cose. Perché sapete, un conto è magari dire in un contesto come quello dell'Assemblea Generale della CEI, che è la conferenza episcopale, un conto è dire c'è una cultura odierna dell'omosessualità rispetto alla quale chi ha un orientamento omosessuale è meglio che non sia accolto in seminario. Cioè magari detta così uno potrebbe dire... Che già anche questa, francamente, come lei sa, difendo spesso il pontefice per quel nulla che vale. Ma neanche qui mi sento di difenderlo. Siamo a un'idea del seminario peggio della caserma dal punto di vista della chiusura. E francamente questo, secondo me, non è giustificabile. Non è giustificabile per questa chiesa, per questa apertura. È una ferita. Questa è una ferita, io spero che il pontefice, naturalmente non ho nessun titolo per suggerirlo, abbia la forza di rimarginare questa ferita, perché è molto grave. È una ferita nei confronti dell'umano, dell'umano, del disagio, della diversità e anche della vita, della complessità della vita. Anche perché il Papa si rivolge a miliardi di persone nel mondo, no? Certo, è certo. Quindi è chiaro che questa espressione che poi è tipicamente, come dire, di un slang romanesco, no? Sì, ma peggio proprio. Cioè neanche qualcuno ha detto, neppure il generale Bannacci parla così. Esatto. Molti omosessuali, molti lesbici, proprio a sfregio usano a volte nel linguaggio tra di loro questi termini, proprio in qualche modo per rovesciarne il senso. Tanto è la ferita che viene usata da chi la soffra... Però lo usano tra di loro con quel carico di ironia per smontare la potenza. Esattamente, proprio per dissolvere la violenza di questo linguaggio. Io trovo che, francamente, si può dire così, pregherei il pontefice di fare ammenda. Pregherei il pontefice. No, perché mi ricorda molto, peraltro, Bertilotti, che un grande filosofo, Gara Nice, diceva che è importante chi dice le cose, no? Certo. E quindi il fatto che un conto sono due omosessuali che tra loro scherzando anche per togliere quella potenza distruttiva della parola... Esattamente il rovescio. Lì, negli omosessuali che usano questo sfregio rovesciandolo, c'è proprio l'iperbole della capacità di ridere a chi vorrebbe schernirli. Qui invece no. C'è proprio l'uso... Quindi anche lei è rimasto colpito molto quando lo ha letto. Era molto intrestito. La porto subito...